Ci spostiamo con una bella notizia, quasi 23 milioni di euro. E questo è l'incasso totale dell'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest. La cifra è emersa dall'indagine della Camera di Commercio di Torino. I numeri confermano un successo che avevamo già ampiamente percepito, ha commentato il presidente Dario Gallina. Vediamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.